Ciao, che ne dici di metterti un po' alla prova con Filodoro? La nostra protagonista indossa il collante ideale 30 e ha davanti a sé molti imprevisti. È un video interattivo, perciò fa attenzione! Avrai solo 3 secondi per cliccare con il mouse i pulsanti che compaiono sullo schermo ed aiutarla a superare i suoi ostacoli. Oppure, se preferisci, rilassati e goditi il video. E ricorda che con Filodoro la differenza si vede, si sente e si tocca. Vedi cosa sta per succedere? Sbrigati! Non hai sentito? Fosse in te alzerei un po' la guardia. Veloce! Attenzione! Una mano tocca il borsellino. E la tua? Sarà altrettanto lesta? Ok, nessun dramma. Anche nelle situazioni più difficili puoi contare su un paio di Filodoro comode e resistenti. Ed ora guarda come sarebbe andata con un pizzico di brio in futuro. Wow! Che rapidità! Complimenti! Ottimo lavoro! E con un paio di Filodoro è ancora più semplice tirare fuori la grinta per superare ogni contatto. Filodoro. La differenza si vede, si sente, si tocca.